Dopo ben vent'anni torna a suonare la campanella alle tremiti. La scuola dell'infanzia dell'isola ha infatti ufficialmente riaperto i battenti questa mattina e importa davvero poco se sia avvenuto con due settimane di ritardo rispetto all'inizio prestabilito per il 16 settembre. Il merito della riapertura è tutto da ascrivere a Michela Liuzzi, 64enne insegnante precaria di Apricena, che ha accettato l'incarico dopo che due sue colleghe, destinatari del ruolo, avevano precedentemente rifiutato, dichiarandosi non disponibili ad affrontare il viaggio in traghetto che occorre effettuare per raggiungere le isole tremiti. La scuola non era attiva dal 2003 per assenza di alunni e quest'anno rischiava di rimanere chiusa, viceversa, per mancanza di docenti, nonostante la presenza di sette piccoli studenti. La maestra Michela ha deciso che resterà sull'isola dal lunedì al venerdì e quindi, meteo permettendo, tornerà a casa weekend, dove ad attenderla c'è suo marito, mentre i figli vivono a Roma. «Sono tanto felice di essere qui alle tremiti», ha detto l'insegnante. «Ho ricevuto un'accoglienza meravigliosa dalle famiglie degli alunni. Ho accettato questa nuova sfida perché amo insegnare e amo i bambini. Michela Liuzzi, infatti, è anche catechista e volontaria in parrocchia ad Apricena. Accogliamo con entusiasmo la nuova insegnante. La riapertura della scuola segna un nuovo capitolo pieno di energia positiva», ha aggiunto la sindaca Annalisa Lisci. La stessa comunità della riserva marina a Isola e Tremiti le ha dedicato un post sui social. «Benvenuta maestra Michela nella famiglia delle Tremiti e grazie. Con noi ti troverai bene. Ti affidiamo i piccoli tremitesi. Siamo sicuri che sono in buone mani».